Allora, primo circuito per le gambe, primo esercizio si chiama plie squat, plie squat con salivamento del tallone, ok? Plie squat, gambe, piedi larghi, ok? Devi scendere partendo ginocchi verso le punte, scendendo proprio giù, non chiudere ginocchi, così, ok? E adesso devi salivare un piede, secondo piede, uno, due, uno, ok? Reggio equilibrio, così devi fare otto dieci, quindi questo è uno, questo è due. E poi devi fare dieci squat plie, così, uno, due, tre, momenti qua, quattro, eccetera. Questa plie, poi metti elastico, quello blu, o rosso, meglio rosso. Ok? Ti metti in quadrupedia e devi fare abduttori, quindi devi fare, alzare la gamba, 15 barra 20 ripetizioni, ok? Poi prendi il pallone, quello grande che ce l'hai, ti metti, appoggiare la schiena e fai crunch, in questa maniera, ok?